La pseudospeciazione è un termine che viene usato inizialmente dalla psicologia sociale, però dopo viene riproposto in forma più pensata, nell'etologia umana. Il teorico a cui mi riferisco di più è Eib Leibesfeld, che è il discepolo di Lorenz, anche se proprio sulla questione della Costituzione, che è un interessante rapporto maestro-discepolo, perché poi Eib si differenzia da Lorenz proprio sulla questione decisiva, e cioè appunto ma quale sarebbe insomma la forma di relazione che poi costituisce in gran parte la cultura umana, lui dice che avviene nella cura e non avviene attraverso la trasformazione dell'azione istintuale aggressiva nel gioco e poi quindi in una relazione sociale. Quindi c'è una bella differenza da questo punto di vista, questo interessa meno. però la pseudospeciazione è l'idea che altri umani, e qui dobbiamo mettere alla base come ipotesi che gli umani, tanto quanto i primati e tanto quanto altre specie di mammiferi, abbiano una certa inibizione, non all'aggressività che sarebbe una cosa bruttesca, ma alla distruzione dell'altro con specifico. Non è vero che non avvengono mai uccisioni tra altri mammiferi, eccetera, questa è una sciocchezza, però non avvengono come regola, avvengono in situazioni molto specifiche, oppure addirittura per eccezione. non si può fare una comparazione con l'aggressività distruttiva, dove invece la guerra non è affatto un'eccezione, a meno di non dover proprio far finta che il mondo e la storia non esistano, no? anche oggi. Quindi è un'attività, virgolette, normale, e questo implica però il superamento di inibizioni, inibizioni innate alla distruzione del con specifico. Questo lo si vede in tantissime cose, in due cose fondamentali. La prima è che, tant'è che c'è questa inibizione, è che bisogna studiare delle forme per superarla. Queste forme per superarla sono o alterazioni della percezione che possono avvenire attraverso riti, eccetera, ma anche, e questo avviene anche nelle guerre moderne, è avvenuto nelle guerre dell'ex Yugoslavia, è avvenuto persino per i top gun, non per tutti, ma per alcuni, i top gun che bombardavano l'Iraq. Ora, capite, i top gun non vedono niente di quello che fanno, vedono una crocetta. Quindi dovrebbe essere superata questa inibizione. Lorenz aveva già spiegato che c'è un'accelerazione con le armi da fuoco, no? Perché non vedi l'avversario, quindi puoi sparare a un'ombra, no? È dimostrata, non so, dalle tecniche, per esempio, durante le lotte sindacali politiche dell'Ottocento, del mettere in prima fila le donne e i bambini. Perché si mettono in prima fila? Perché lì c'è un'accentuazione, è difficile, poi dopo naturalmente, siccome ci sono quelli che ti sparano dietro, spari anche le donne e i bambini. Questo va bene, però tutte queste cose dimostrano che c'è uno sforzo. L'altra cosa che avviene oggi è la mostrificazione del nemico. Il nemico non è veramente un uomo. Per esempio, moltissimi popoli parlano di sé come il popolo degli uomini. Per esempio, i Rom dicono di sé popolo degli uomini, nonostante quello che la cultura occidentale, orientale, ha detto, degli altri popoli su di loro, ma i Cheyenne parlavano di loro come il popolo degli uomini. Ma in fin dei conti anche i greci universalisti riconoscevano, persino i filori, riconoscevano, naturalmente tutti eravano uomini e questo era un grande progresso, però nello stesso tempo, guardate un po', i greci erano greci, per esempio, e gli altri erano barbari. Cosa vuol dire barbaro? che balbetta. E però poi si dice che il logos è la questione che ci distingue. Allora vuol dire che ci sono alcuni che parlano bene, sono uomini al 100%, altri che sì però. Allora, tutte queste cose, questo non è la mostrificazione, però la mostrificazione avviene spessissimo, è avvenuta anche, avviene costantemente dentro il nostro mondo. Per esempio, sempre per rifarci alle ultime cose, basta pensare alle propagande opposte degli Stati Uniti contro l'Iraq e degli Irak contro gli Stati Uniti. Lì è il grande Satana, e quindi il grande Satana si può farlo tranquillamente fuori, no? Sendo un Satana, non è esattamente un umano. E dall'altra parte i costruttori delle armi di distruzione di massa che vogliono distruggere il Medio Oriente, che naturalmente è storia che si è dimostrata, non era vera, ma la costruzione del nemico come mostro. E questo ci, come dire, aiuta questa cosa. Questa è la pseudospeciazione. Però la mia teoria non è moralista. Io non penso affatto che la pseudospeciazione sia una cosa cattiva. Penso anzi che sia stata necessaria, inevitabile, per una lunga parte dell'istoria fino ad oggi, o almeno fino al capitalismo industriale. Perché? Perché i gruppi, i gruppi umani, concorrono su un territorio che ha certe risorse e hanno un certo livello di popolazione demografico, hanno certe tecniche. Rispetto a quello, soprattutto nella fase appunto pre-industriale, eccetera, e quindi che è durata praticamente tutta la storia dell'umanità fino agli ultimi secoli, che cos'è che è fondamentale? È l'unità del gruppo, che vediamo alle masse. L'unità del gruppo è fondamentale per la sopravvivenza del gruppo. Perché non ci sono tecniche a disposizione che non siano incorporate. Cosa vuol dire? Vuol dire che per fare un guerriero ci vogliono anni di formazione, per fare una tessitrice ci vogliono anni di formazione. E dunque è che noi per sopravvivenza abbiamo bisogno delle persone che incorporano queste tecniche. E dunque il gruppo deve essere assolutamente unito. Da qui tutte le cose che arrivano fino alle soglie della modernità, per esempio l'ostracismo, l'essere mandati fuori, mentre invece in condizioni diverse, per esempio per i nativi americani, essere buttati fuori equivaleva a una sorta di condanna a morte. Perché uno che era un cast doveva vivere da solo, al massimo faceva fare una specie di banda insieme ad altri che erano buttati fuori, questo è per sopravvivere. Quindi lì l'unità del gruppo è fondamentale per la sopravvivenza. Bene, l'unità del gruppo si fa caricandola del fatto che noi siamo gli umani veri, che vuol dire anche queste tradizioni, queste sono indiscutibili. Quelle degli altri sono un'altra cosa che si possono anche distruggere all'occorrenza. Quindi la pseudospeciazione è fondamentale insieme al riconoscimento, riconoscimento di noi con il gruppo contro gli altri che sono meno di noi. Secondo me questo meccanismo riconoscimento, pseudospeciazione, cioè riconoscimento, misconoscimento, che è sempre all'opera, è costitutivo di come si forma un gruppo. Allora, come si forma un gruppo? Si forma un gruppo attraverso questi due movimenti, uno positivo, un altro negativo. Nelle istituzioni quello positivo, come dire, è l'aspetto fondamentale e poi dopo utilizza anche quello negativo. Nel momento, per esempio, della folla occasionale, eccetera, in genere è siamo contro, non siamo noi, non sappiamo neanche che cosa siamo noi, ma noi siamo contro. E questa è una prima forma l'identificazione, perché ci sono altre modalità, eccetera, eccetera. Ma insomma, il senso è che appunto folle e poi folle organizzate nelle istituzioni, eccetera, secondo me questo è il meccanismo che è un'opera. Pseudospeciazione, pseudospeciazione, come due cose che corrispondono alla costituzione dell'identità di voi. E adesso siamo di fronte a, ma questa è la mia parte utopica, a un possibile passaggio che non è di domani, magari tra mille anni, non lo so, però le basi strutturali di questo meccanismo sono messe in discussione. E questo naturalmente crea adesso anche grandi problemi. Perché? Perché adesso, per sopravvivere, non si sopravvive un gruppo contro l'altro, ma anche i gruppi uno contro l'altro sopravvivono perché esiste l'interdipendenza, non più come morale, come la pensavano, o spirituale come la pensavano i grandi leader religiosi dell'umanità, Buddha, Gesù, eccetera, eccetera, ma come fatto materiale. Il fatto materiale è la storia del capitalismo. Noi non possiamo più vivere gli uni senza gli altri. Io credo che questo porterà, dei secoli, non so qua, ma porterà a un diversissimo modo di organizzarsi nel reciprocamento. per adesso è posto soltanto il punto critico. Le basi erano quelle lì, queste basi non ci sono più. Quindi forse si può cominciare a ripensarli. a ripensare a ripensare a ripensare le basi a ripensare Grazie a tutti